Io sono sempre qui in questa grande domenica dedicata alle donne e sono con Lucia di ovviamente non una di meno. Lucia ciao. Ciao a tutti. Io sono qui per in realtà ricordare che da un anno Silvia Romano è stata rapita in Kenya. E' stata rapita in questo villaggio a pochi chilometri da Malindi che è la famosa spiaggia degli italiani, la spiaggia della ricchezza, la piaggia dove è partito il progetto di anche briatore, quindi dove c'è lusso, dove c'è divertimento, disimpegno. A pochi chilometri da Malindi c'è questo villaggio dove praticamente non c'era niente, non c'era neanche la violenza causata dall'accumulo di soldi di Malindi, dove arrivano gli stranieri, quindi portano tanti soldi, mentre lì era un villaggio completamente rurale dove non c'era niente, neanche le scuole. Per cui questa ragazza di Milano è andata a dare il suo contributo, cioè appunto si può dare il contributo insieme ballando, divertendoci, si può anche dare, riempire la propria vita anche con della collaborazione attiva a favore degli altri. Ecco questa ragazza è stata rapita un anno fa, per tanto tempo di lei non se ne è occupato nessuno, cioè c'erano queste notizie molto sporadiche sui giornali e ci siamo chiesti, anche come non una di meno, come mai è successo questo, visto che per la stampa, io sono giornalista, per la stampa in genere una storia di una ragazza rapita in una terra lontana è una cosa da prima pagina, cioè che può sollecitare, invece nel caso di Silvia Romano è sceso quasi un cupola di silenzio, questa cupola di silenzio, poi anzi all'inizio ci sono arrivate rassicurazioni, questa ragazza doveva essere liberata in pochi giorni, visto che era stata rapita da delle bande locali e poi passavano i mesi, siamo arrivati che è passato quasi un anno, dopo un anno ci sono state tante disinformazioni per cui a un certo punto si è persino detto che era morta, poi arrivano le smentite dai servizi segreti, però diciamo che tutte le notizie molto molto confuse, oltretutto c'era anche questo attacco che è stato fatto a questa ragazza, come succede spesso quando dei ragazzi che vanno a contribuire ad aiutare queste persone a casa loro, si dice tanto aiutiamole a casa loro, poi se però qualcuno va a aiutarli c'è sempre qualcuno che salta su e mi hanno fatto una cavolata, peggio per loro, poi siamo tutti noi italiani che dobbiamo pagare per liberare queste persone. Cioè quindi anche questa parte diciamo è saltata fuori, fino a ultime notizie passate anche dai maggiori giornali quotidiani italiani, che Silvia Romano era stata costretta a islamizzarsi, quindi si era poi sposata e vive felicemente da qualche parte del Kenya o della Somalia. Poi in realtà quello che succede nei casi di questi rapimenti è che in genere spesso i rapiti vengono palleggiati da varie organizzazioni fino ad arrivare proprio agli apici che sono poi i mandanti, in questo caso si dice perlomeno dei jihadisti della Somalia, cioè si sa ancora bene precisamente. Quello che stupisce è che anche le nostre autorità non si sono occupate di questo, sembra che l'abbiano quasi dimenticata in Africa, l'hanno lasciata lì e in mano non si sa ancora bene chi è. Poi a un certo punto, a luglio scorso, è successo che è cominciata la collaborazione tra gli inquirenti del Kenya con i nostri servizi segreti e questo pare che sia cominciato perché gli italiani hanno finalmente deciso di collaborare su un caso di corruzione operato dalla nostra CMC con questi personaggi legati, per esempio il ministro della finanza per avere la commessa della costruzione di tre dighe in Kenya e in quelle aree lì. E pare che siano stati versati circa 200 milioni di euro a fronte di un lavoro di circa 800 mila, qualcosa del genere. Ecco, la cosa che appunto ci ha lasciato tutti molto perplessi è capire se questo silenzio è stato proprio causato dal fatto che dietro c'era questa specie di ricatto fatto dalle autorità chenote, dicevo noi ci occuperemo del caso e di collaborare con voi semplicemente se voi collaborate con noi per scoprire praticamente questa truffa che è stata fatta ai danni, sarebbe stata fatta ai danni appunto del presidente Kenyota, eccetera. Il presidente appunto della CMC di Ravenna ha avuto il mandato di, è stato pubblicato da giornali americani che ha avuto il mandato di cattura internazionale però non sappiamo se questa cosa sia vera, se questa corruzione sia effettivamente avvenuta. Il problema potrebbe essere di politica interna del Kenya, quindi aspettiamo. Di positivo c'è il fatto che comunque dal luglio scorso qualcosa in più si è mosso e speriamo si sia mosso anche l'interesse della stampa nazionale. Quello che noi, come non una di me, non stiamo facendo è cercare proprio di ricordare questa ragazza e ricordare che è da un anno che è in prigionia. Ringraziamo Lucia, parole davvero molto forti ma ci vogliono, forse anche per svegliare gli animi umani e forse anche per partecipazione, per unirsi a queste associazioni e cercare di fare qualche cosa. Perché non è vero il detto che molte volte usiamo come alibi, ma tanto sono da solo e non riesco a fare nulla. Insieme si può, vero Lucia? Certo, assolutamente. È l'unione che fa la forza, lo diciamo tutti, poi nessuno ci crede. E quindi si fa. Grazie a Lucia, ci vediamo fra poco.